La seconda cilvoglia di premiazione oggi qui a Roma con il criterium Breveti Planner 13. Siamo pronti ad accogliere in campo la medaglia di bronzo di questo criterium. Ci vedi? Ci vedi? Vedo, vedo. Bene, possiamo partire con l'ingresso in campo della medaglia di bronzo, criterium Under 13 riservato ai brevetti. Edizione 2014 qui a Roma, la medaglia di bronzo in sella a Fairplay in Van de Meijvorn è quella di Giulia Ferri. La classe non è acqua, eh? La classe non è acqua. Giulia Ferri ha fatto il suo ingresso in campo, ma adesso accogliamo la medaglia d'argento, è quella di Vincenzo Porrino. E così anche la seconda posizione di questo criterium ha fatto il suo ingresso in campo. Ma è arrivato il momento di accogliere il primo posto, la medaglia d'oro criterium 2014 Under 13 Asia degli Agosti. Eccoli qua signori, loro sono le tre medaglie Under 13 e qui invitiamo a recuperare i poni di Asia, Vincenzo e Giulia. E quindi loro saliranno sul podio per ricevere la medaglia.